Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati quasi al giro di boa di questa settimana. Come state? È venerdì e questo significa che si avvicina il weekend ma si avvicina anche il ritorno della Juventus perché comunque il 24 di luglio alle 4 circa del mattino avremo la prima amichevole della Juventus contro il Barcellona. Non so ancora se la riusciremo a vedere in diretta qui su Twitch perché probabilmente quella in quei due giorni lì sarò impegnato, non sarò a casa, però sicuramente la partita la recupererò anche in un secondo momento se non in presa diretta e la commenteremo insieme perché credo che sia giustissimo analizzare anche i primi match e cercare di capire le prime indicazioni tattiche. Secondo me si ripartirà dal 352 però ci sediamo, aspettiamo e controlliamo. Abbiamo alcune novità rispetto a ieri, sono contento perché i due video di ieri sono stati un po' scarichi più che altro una breve chiacchierata, invece oggi abbiamo delle novità e anche una riflessione che voglio portare davanti a voi e voglio cercare di condividere con voi. Intanto Artur Fiorentina, ne abbiamo parlato tanto negli ultimi giorni, ora è fatta, Artur è arrivato a Firenze e quindi viene annunciato anche dai social Viola, giocherà lì l'anno prossimo e uno è uscito, ora concentriamoci sugli altri che sicuramente saranno da sistemare il prima possibile come Zaccaria e lo stesso McKennie che comunque partirà per andare nei suoi Stati Uniti d'America per questa tourne con la Juventus. Pochi istanti dopo il video di ieri abbiamo avuto anche un rinnovo ufficiale di contratto perché Fabio Miretti rinnova fino al 2027 con la Juventus, sicuramente un'ottima notizia, sapete tutti quanto io sia fiducioso, Fabio Miretti, ho tanta 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 fiducia nel fatto che possa diventare un giocatore da Juventus, poi titolare inamovibile, fisso, fenomeno, questo è un altro discorso, però secondo me Miretti è un giocatore molto interessante e sono assolutamente contento che abbia rinnovato con la Juventus per altri 4 anni. Meraviglioso, fantastico, partirà appunto per l'America, però attenzione perché io non escludo anche il fatto che Miretti possa poi tornare da questa tournega negli Stati Uniti ed essere ceduto in prestito a un'altra squadra per la prossima stagione, perché rinnovare il contratto non significa assolutamente non poter partire in prestito, anzi abbiamo visto come Artur prima di andare a Fiorentina abbia appunto rinnovato il contratto per spalmare un ingaggio molto elevato e superiore ai 6 milioni che si leggeva nei giorni scorsi, proprio per permettere alla Fiorentina di pagare la metà dell'ingaggio, quindi un rinnovo di contratto spesso e volentieri sta anche a significare una partenza. Ricordo anche Federico Chiesa stesso rinnovò il contratto con la Fiorentina prima di approdare la Juventus l'ultimo giorno di calcio mercato della stagione di Andrea Pirlo, proprio perché sennò poi il prestito diventava impossibile e Chiesa la Juventus arriva in prestito con il pagamento e il riscatto all'anno successivo. Quindi sono tante cose che si incastrano nelle operazioni di mercato, il rinnovo di Miretti secondo me non lo blinda alla Juve, lo blinda dal punto di vista del cartellino quello sì, quindi difficilmente Miretti verrà ceduto a titolo definitivo in questa stagione e questo me lo porto a casa proprio per quello che dicevo prima, e cioè ho fiducia nel futuro di questo ragazzo, però se partirà sarà semplicemente una partenza in prestito, poi magari un diritto di riscatto e contro riscatto per la Juve, un po' come stiamo vedendo in questi ultimi mesi di calcio mercato perché saranno sparite le compartecipazioni da qualche anno, però il riscatto e contro riscatto è diventato un po' il trend del momento per tanti club che non vogliono perdere il diritto alle prestazioni sportive di alcuni calciatori che ritengono assolutamente interessanti. Abbiamo visto appunto Filippo Ranocchia che va a Empoli con questa formula qua, niente di speciale, anzi abbastanza didattato perché comunque è un po' la formula che aveva portato Morata alla Juventus per la prima volta da Real Madrid, però sta diventando veramente una formula applicata sempre più spesso nel mercato, segno che si sta andando in questa direzione qua. Rabiot, Rabiot non parte per un problema muscolare, esattamente come l'anno scorso, tra l'altro Rabiot aveva fatto la preparazione a Torino, era rimasto a Torino con qualche ragazzo, aveva portato bene l'anno scorso, vediamo che possa portare bene anche quest'anno per un problema al polpaccio. Ricorderete nel video di ieri a mezzogiorno vi dissi attenzione perché su Rabiot ci sono alcuni dubbi, potrebbe davvero non partire al pari di fagioli, che non partirà anche se è in lista e non è che non partirà per la clavicola, ma per una tonsillite che ha avuto nelle ultime ore, quindi non si sa mai che possa prendere freddo in aeroplano con l'aria condizionata, rimettiti presto Faggio, un abbraccio. Però Rabiot, dicevo sempre nel video di ieri, le ultime indiscrezioni lo danno in dubbio, però lui stesso aveva detto che era carico per questa tournée poche ore prima sul canale Twitch ufficiale della Juventus, quindi abbiamo visto come ci sia stata una sorta di conferma finta da parte di Rabiot stesso e di conferma ufficiale da parte della Juve che lo esclude da appunto i convocati per questa tournée. E quindi con Rabiot fuori e fagioli fuori, Allegri avrà due terzi dei centrocampisti titolari fuori dalla lista dei convocati per questa tournée, per questi allenamenti e per le partite contro Barcellona, Milan e Real Madrid. Ora, non che sia indispensabile vincerle amichevoli, anzi c'è stato per una vita il trofeo Berlusconi, il trofeo Birra Moretti, chi vinceva quello non vinceva il campionato, quindi io delle due perdo 25-0 tutti gli amichevoli, non è un problema in cambio di fare una stagione da Juventus come non vediamo da un po' di tempo a questa parte, però ovviamente avere due terzi dei centrocampisti fuori non è una cosa buona, a maggior ragione se consideriamo che comunque Rabiot e Fagioli sono due giocatori abbastanza coriacei, nel senso che difficilmente li hai visti fuori per infortunio alla passata stagione, oddio, un paio di partite le hanno saltate entrambi, i fagioli sul finale poi si è fatto male appunto alla spalla, però sono due giocatori che bene o male sono sani in salute, a iniziare il campionato, anzi la stagione, la stagione con due terzi dei centrocampisti titolari fuori, che di solito stanno bene per qualche piccolo problemino, anche se poi i fagioli è una cosa da ridere, è Rabiot muscolare, quindi speriamo che vada tutto bene perché abbiamo assolutamente bisogno di Rabiot in questa stagione, volevo però vi dicevo prima fare una riflessione insieme a voi, questa è la lista dei convocati della Juventus pubblicata 15 ore fa, quindi nella serata di ieri, come vi dicevo non c'è Fagioli che qui era presente perché poi ha avuto questo problemino, però questa è la lista di giocatori, rimane a casa Bonucci, al suo posto parte Rivinter, ci va McKennie che è stato reintegrato in Rosa, dopo qualche problemino per Pogba che è comunque presente, ma vi dicevo occhio perché Pogba potrebbe non giocare comunque le amichevoli, potrebbe andar là soltanto a lavorare, c'è Moise Ken che aveva avuto qualche problemino al fessore, però probabilmente niente di che, ma questa è la lista di giocatori che prende parte appunto a questa tournée americana della Juventus. Giunto l'edetto mercato chiuso, quindi bene o male questa dovrebbe essere la lista dei giocatori per la Juventus ideale in questo momento, senza nessun tipo di cessione, tradotto, se non arriva l'offerta per Blaovic, quella irrinunciabile famosa, non arriva l'offerta per Chiesa, non arriva l'offerta per Bremer, bene o male questi dovrebbero essere i giocatori della Juventus, della Rosa della Juventus. Secondo me, secondo me, uscirà McKennie e ci sarà un altro ingresso al centrocampo dopo le cessioni di Zachary e McKennie, in questo momento, perché credo che Pogba nella testa di Allegri possa essere quel giocatore con qualità da inserire negli ultimi minuti di partita, perché dal primo minuto difficilmente lo vedremo, ma in grado di cambiare la partita negli ultimi metri, quindi io mi immagino addirittura un Pogba più spostato verso la tre quarti che verso il reparto di centrocampo da mezzala pura, a meno che non venga addirittura messo in cabina di regia perché io ho questo dubbio su Pogba, ma non perché lo veda bene lì o lo veda bene davanti, anche se davanti lo vedo decisamente meglio rispetto che davanti alla difesa. Però la mobilità è limitata e ridotta e quindi un giocatore con una mobilità ridotta è molto più facile che riesca a giocare da fermo, quindi davanti alla difesa, o comunque che possa dare quella qualità negli ultimi metri con le giocate, che quelle non richiedono uno sforzo fisico di livello proprio perché gli vengono naturali. Fare la fase difensiva a centrocampo avanti e indietro come uno stantuffo da mezzala da box to box non mi sembra in questo momento nelle corde per un giocatore come Pogba che ha tantissimi dubbi fisici. Quindi, ipotizzando, fuori Paredes e dentro Rovella, fuori Di Maria sostituito tra virgolette da Pogba, e poi abbiamo aggregati comunque Nicolussi Caviglia, McKennie stesso, Baraneccia faceva già parte nelle Juve, e c'è Nonge che è un nome nuovo che abbiamo comunque già visto nell'anno scorso in qualche amichevole, abbiamo Uisen che si era già visto in un amichevole e abbiamo Ildis che non era ancora stato aggregato alla prima squadra, ora finalmente c'è, quindi Di Maria può essere tra virgolette numericamente sostituito anche da Ildis, e c'è Sule che l'anno scorso era stato sfruttato poco, e Quadrado sostituito numericamente da UEA, Bonucci sostituito numericamente da De Winter e Uisen, c'è lo stesso cambiaso che è rientrato alla Juventus, numericamente siamo quelli, aggiungiamoci Rabiot che è fuori da questa lista, io credo che questa sia comunque una rosa interessante, che non significa che sia la rosa migliore del mondo, la rosa migliore della storia della Juventus, però secondo me questa è una rosa interessante, manca ancora qualcosa? Assolutamente sì, e per quanto mi riguarda manca qualcosina dietro, andrebbe migliorato dietro, poi vi dico, la sensazione è che in questo momento possa arrivare un attaccante, perché Pogba secondo me viene visto quasi più come attaccante, anche se qui è messo nei centrocampisti, qualora venga considerato Pogba, perché magari non è nemmeno considerato nella testa della Juventus, di Allegri dei dirigenti, però io continuo a leggere che questa rosa è scarsa, è scarsissima, è peggiorata, non si può fare più di un sesto posto, quinto posto, quarto posto, terzo posto, quelli che saranno, però ragazzi, lo scorso anno io ho letto anche tante critiche nei confronti di Paredes, che era svogliato, sono critiche condivisibili secondo me sia per Paredes che per gli altri giocatori che andremo a nominare, svogliato, non è entrato in gruppo e bla bla bla, Quadrado, è vecchio, non salta più l'uomo, è bollito, Di Maria, è svogliato, pensa al mondiale, è arrivato la Juve solo per, ha fatto degli errori importanti, non è stato il miglior di Maria, siccome sono tutte cose vere e sono sicuramente dei giocatori ingombranti dal punto di vista della personalità del Palamarese, quello che volete, però se pensiamo al Quadrado, al Di Maria, al Paredes dell'anno scorso e ci facciamo un esame di coscienza personale che possa essere stata colpa di Allegri o dei calciatori stessi, quando l'anno scorso abbiamo iniziato la stagione, che aspettative c'erano su questi tre calciatori? Più alte e più basse rispetto a quello che hanno fatto? Ribadisco, colpa di Allegri, colpa dei calciatori, non mi importa, però rispondete a questa domanda, perché secondo me hanno fatto decisamente di meno di quello che ci si poteva aspettare da tre giocatori con quella qualità, non parlo del freddo numero di golo di assist, parlo proprio delle prestazioni, dei momenti difficili della stagione affrontati in un certo modo, lasciati da parte di chi ha la colpa, ma di più o di meno, io mi aspettavo di più, e quindi, fermo restando che sono tre giocatori importantissimi per quello che è stata comunque anche la storia recente del calcio di Maria, Paredes, campione del mondo sei mesi fa, è Quadrado, non devo stare qua a dirvelo, però sono stati sostituiti da giocatori come Rovella, come UEA, di Maria l'abbiamo detto, è un mix di giocatori che si sta aggiungendo e poi probabilmente qualcosa ancora arriverà, non dimentichiamoci che c'è Chiesa che rientra dal primo minuto, l'anno scorso è iniziato ad averlo a febbraio, gennaio, a un certo punto di vista, da un punto di vista atletico, quindi ti è mancato nei primi mesi, quindi questa rosa probabilmente ha nomi, ha nomi, perché il nome di Di Maria, il nome di Quadrado, il nome di Paredes, ci sono, però probabilmente come potenziale, come quello che potremmo vedere in campo, mia umile opinione, questa squadra qui, Corrabbiò, può essere addirittura di più di quello che è stato l'anno scorso, aggiungiamoci De Winter per Bonucci, che è un altro di quelli Bonucci, quante critiche sempre giustissime, poi io capisco che sia difficile comprendere, decifrare e pesare il valore di giocatori come De Winter, che la Juventus non ci ha mai giocato, Rovella, che la Juventus non ci ha mai giocato, UEA, che la Juventus non ci ha mai giocato e per Di Maria sempre quel discorso che è. Però, però, per quella che è stata la stagione dell'ultimo anno di Bonucci, quella che è stata l'ultima stagione di Paredes, quella che è stata l'ultima stagione di Quadrado, quella che è stata l'ultima stagione di Maria, io sono fortemente convinto che nonostante ci siano meno nomi, ci sia più freschezza, più voglia, più atletismo, più probabilmente necessità di mettersi in gioco davvero, proprio perché non c'è il nome, ma il nome te lo devi formare. E quindi sono molto curioso di questa tournée, sono molto curioso di questa squadra, che probabilmente per Allegri è meno pronta, questo non dobbiamo prenderci in giro, dobbiamo dirlo, per Allegri è meno pronta questa squadra. Però questa è una squadra decisamente più interessante rispetto a quella dell'anno scorso. È una squadra che si scrolla di dosso anni, nomi, ingaggi, storia, palmarès, e mette dentro energia, freschezza, spensieratezza, voglia, grinta, necessità di raggiungere determinati standard. Non è male come cosa. Un altro cambio che possiamo fare è De Sciglio Cambiaso, perché De Sciglio è rotto ed entra Cambiaso al suo posto. Quindi per intenderci, fuori Bonucci, fuori De Sciglio, fuori Paredes, fuori Quadrado, fuori Di Maria, dentro Cambiaso, dentro De Winter, dentro Rovella, dentro UEA, e per Di Maria, dentro Hildiz, dentro, ovviamente non sempre per Di Maria, ma Uizen, Nonge, il ritorno di chiesa e Pogba, che vediamo come va. Che fa anche un po'. Secondo me ci sono degli estremi per essere intrigati da questa lista di convocati, da questa squadra, da questi nomi. Perché, ragazzi, io poi mi va bene tutto, però io non so quante squadre in Italia possano decidere di aggregare così alla rosa della prima squadra, una squadra che in teoria ha delle ambizioni, giocatori come Uizen, Nonge o Hildiz, che magari non sono pronti per essere titolari decisivi in Serie A, ma sono prospetti interessanti. E se delle squadre come Sassuolo, Empoli, quelle che volete voi, ditemi Udinese, decidono di avere, nel settore giovanile dei giocatori del genere, decidono di metterle in prima squadra, di fargli fare due stagioni in prima squadra, questi profili, in un anno, in un anno e mezzo, diventano giocatori da 30, 40, 50, 60 milioni. Noi iniziamo ad aggregarli. Poi, per fortuna, abbiamo anche dei giocatori più pronti che in questo momento possano prendere il loro posto, possano dargli il tempo di venire su senza fretta, senza scorciatoie, però ragazzi, aggiungere Uizen, aggiungere Hildiz, aggiungere Nonge, in prima squadra, così, non sono fortuna. Ma guardate Miretti, che ha rinnovato fino al 2027, è un giocatore in grado di fare la differenza subito a noi, ma è un 2003, che ha fatto una stagione in Serie A, ma è un giocatore che sicuramente verrà fuori. Guardate Fagioli, che l'anno scorso non gli si dava un euro, è diventato un giocatore titolare della Juve. Tutti i giocatori sono passati da questo status di ma sì, però non ci sono mai stati, non l'ha mai fatto, non l'ha mai giocato tutti. Poi con calma, pazienza, eccoci qua che poi sono arrivati. Io mi ricordo anche Chiesa, no? Chiesa, io stesso ero dubbioso su Chiesa a quelle cifre lì, non mi sembrava nemmeno pronto per la Juve. Chiesa arriva, fa una stagione a Juventus che fa stropicciare gli occhi. Quindi ci vuole anche un po' più di coraggio. Eling Junior, un altro nome che l'anno scorso ha buttato nella mischia della Juventus, e ha fatto una stagione, Eling, in cui secondo me ha giocato anche troppo poco per quello che ci ha fatto vedere. Io non sono ancora conquistato da Sule. Lo sapete, ve l'ho detto tante volte, perché a me non è che mi dà il giovane, e allora io sono contento. Io voglio che poi in campo qualcosa ci sia. A me Sule ancora mi deve dire tanto. A me Sule ancora non mi ha raccontato niente. Però, Miriti qualcosa me l'ha fatto vedere. Eling qualcosa me l'ha fatto vedere. E ora mi siedo ad aspettare che Uizen, Hildiz e Nonge mi facciano vedere qualcosa. Che Guea mi faccia vedere qualcosa. Sono contento, eh. Sono molto contento. Perché secondo me ci sono dei margini di miglioramento evidenti in questa rosa qui. E ribadisco, non credo che la rosa sia completata, ma quasi. Mi aspetto un altro nome, soltanto un altro nome. Poi, dovesse uscire Alexandro, allora magari vanno a cercare un colpo in difesa. Dovesse uscire Vlaovic, allora vanno a cercare un colpo in avanti. Dovesse uscire, non so, Pogba che va in Arabia, allora forse fanno addirittura due centrocampisti o uno solo perché Pogba non conta, non lo so. Secondo me qualcos'altro arriverà. Dipenderà tanto dalle eccessioni, dipenderà tanto dalle condizioni di Pogba. Però a me leggere una lista del genere, e sapendo che i rabbi e i fagioli sono a casa per problemi, e quindi comunque fanno parte della rosa di Juventus, io ho delle speranze, non vi dico nella stagione successiva immediata, ma delle speranze in generale per il futuro sulla Juventus ce le ho. Perché sono davvero convinto che da quel punto di vista stia lavorando bene. E giuntoli quando l'altro giorno parla di competitività e di sostenibilità a questo discorso qui. Quindi io capisco che Di Maria, Quadrado, Paredes, Bonucci siano personalità ingombranti che ora non ci sono più alla Juventus. Però se prendi in esame le stagioni, l'ultima stagione banalmente, l'ultima stagione di questi quattro giocatori, non mi sembra che la Juventus abbia perso chissà che cosa, anzi, è probabilmente invece questi giocatori qua che sono stati inseriti, qualcosina di più potranno darlo rispetto all'ultima stagione che hanno fatto loro. Anche se sono più giovani, se non hanno mai giocato una Juventus, se sono alcuni delle incognite, sicuramente. Però sediamoci e guardiamo. Perché una delle poche cose che ci possiamo portare a casa in questo momento di certo è il modo in cui la Juventus sta lavorando con questi profili. Che assolutamente di livello è un modo di lavorare contemporaneo, moderno, e come dice Giuntoli, sta seguendo l'andamento del mondo attuale e del mondo del calcio, che ci insegna ad essere anche una squadra che deve cercare di tirare il freno, dare un'occhiata ai conti, essere competitivi e sostenibili.